Ciao a tutti, sono Ilaria Lenora Gaudenti, Master Crystal Nails, e oggi voglio parlarvi dei costruttori bianchi presenti nel nostro catalogo. Iniziamo con il Builder White Renew. Il Builder White Renew è il costruttore che sceglieremo quando vorremmo realizzare una French in struttura bianca. È un costruttore bianco gesso che ha una viscosità ideale che ci consente di riempire in un solo passaggio tutta la zona della French senza che il nostro costruttore coli. Ovviamente, essendo un bianco gesso, la sua pigmentazione è molto alta, quindi dobbiamo ricordarci di polimerizzarlo per più minuti e soprattutto di aiutarci sempre con una lampada da LED. Se invece volessimo andare a realizzare un effetto più naturale, possiamo scegliere tra la linea dei Baby Boomer. Il primo nato è il Baby Boomer 1. Ha una viscosità leggermente più bassa rispetto agli altri due. Si adatta perfettamente quando, ad esempio, vogliamo andare a realizzare un'unghia dalla finitura completamente bianca latte, quindi in fase di copertura è ideale. Se invece volessimo andare a realizzare un vero e proprio Baby Boomer, possiamo scegliere il Baby Boomer 2. È un biancolatte, ma un biancolatte più intenso, quindi riesce a camuffare, a coprire anche meglio l'unghia naturale. Va benissimo utilizzato in ricostruzione, ma come vi dicevo prima, è ideale per i Baby Boomer in copertura e in fase di refill. Ultimo, uscito da poco, è il Baby Boomer Crystal. Il Baby Boomer Crystal è sempre un bianco lattiginoso, ma al suo interno ha dei micro glitter che andranno ad impreziosire l'unghia. Questi micro glitter mantengono il riflesso sempre sul bianco, in modo tale che lo scintillio si veda ma non sia troppo strong.